E' la prima parte del metodo per il signor Lens. All'organizzazione con 55 in fronte, in prima posizione, 50 in venerdì. Davanti abbiamo la Ciglia Mandai, Segunda, Votna. Ranno Votna. E' la prima posizione, la posizione, la posizione, la posizione, la posizione. La Polacca in fondo del gruppo, mantiene lo style. La Polacca è sempre davanti al gruppo. La Polacca in fondo del gruppo, la finale è da 9 a 3. Non succede niente. Le posizioni restano invariate. Siamo sempre prima Cecilia Maffei. Ma non caggia tanto per la faccia di Maffei. È poco burro. Vediamo, passa la bulgara. La bulgara che non so come si tratta. Di colo, di colo, di colo, di colo, di colo. Mettere leggermente la velocità. Vediamo cosa ha intenzione di fare la Maffei. Va avanti, lancio, vediamo. E la passa. Sì. La velocità aumenta. Cecilia Maffei si porta avanti. Aumenta la velocità media. C'è una traccia di prendere il giro. Vediamo. Vediamo che la Maffei si stacca. Comenzate, mi stacca. Cinque punti. Vediamo, Cassio. Vediamo dietro. Lazzini. Si lancia. Si lancia. C'è una traccia di prendere il giro. Con Cicilia. Cicilia vai vai. Con Cicilia. La Tanna aumenta. La scuola. E' che stavo arrivando. Con Cicilia, vai. Ma Cicilia vai. E' cozzo come una mare. Se il sfrutto come un limone e la Cicilia, Maffei. Dai uomano, vai. Vai. Dai su. E' il DG che cosa. C'è un ruolo. E' il DG che cosa. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.